Ecco lì, molto buono, lì in testa, proprio lì fuori, il mio pistello va ancora, lì fuori, è sorichitto, caria, va a girare in testa, il secondo è sorichitto, è sorichitto, l'occhio, il terzo dell'espina, il quarto è invece mannuccio, un recofesso che li segue, ancora avanti, bene, questo sorichitto, il terzo dell'espina, il terzo dell'espina, ancora sorichitto, il terzo dell'espina, ci provo adesso a muovere le chiamate, il terzo dell'espina, arriva il recofesso che si fila direttamente a del'espina, e provano a prendere i due davanti, ancora, davanti, il terzo dell'espina, in caso sui dei sottilesi, quindi il reocofesso, e gli spirali stanno ralentando, andiamo a sentire il diretto, ancora, reo confesso, prova ai pirazzi, la urba in salita, se non fai avanti, soli hit, prova ai scherzi a vedere se riesci a farci, e il terzo è reo confesso con Mannucci.